Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic e benvenuti in un nuovo video games. Sì, perché nelle scorse settimane abbiamo parlato di videogiochi in tanti modi, in tante sfaccettature, ma soprattutto il discorso l'abbiamo fatto con la RTX 4090 di NVIDIA, ovvero abbiamo parlato e citato, tirato in ballo questo termine inventato, ovvero il games limite, del fatto che questa scheda nello specifico, ma verosimilmente anche altre schede in uscita, siano in qualche modo limitate non tanto per questioni hardware, ma più per quelli che sono i giochi attualmente disponibili, che non riescono a sfruttarle a pieno. E da qui la domanda sorge spontanea e ce l'avete fatta in tanti nei commenti, ovvero quali possono essere ad oggi? Lasciamo perdere per un attimo tutti quelli che sono i giochi in uscita nei prossimi mesi, quali possono essere ad oggi i giochi che più devastano il nostro PC e che più impattano sulle performance overall o anche solo semplicemente della scheda video. Abbiamo cercato, abbiamo fatto un po' di brainstorming, io e Davide, nei giorni scorsi, abbiamo cercato di dare una risposta a questa domanda, o più risposte per essere precisi, quindi oggi vi porto una top 10, diciamo, di mostri che devastano l'hardware PC, magari non la 4090, però in generale mettono sotto sforzo parecchio il PC. Ma anzitutto, prima di partire con la lista di giochi veramente impattanti, fatemela voi una lista qua sotto nei commenti di quelli che pensate o che avete verificato essere i giochi veramente più pesanti ad oggi disponibili in commercio. Condividiamo, condividiamo, facciamo paragoni. E proprio parlando di test, il primo titolo di cui vi parlo è uno degli ultimi che abbiamo messo nella suite di test per le schede video, ovvero Hitman 3, che non è solo un gioco graficamente molto godibile, già di base per il suo motore di sviluppo, ma è un gioco che nei mesi si è aggiornato tantissimo, portando tante novità, tante tecnologie anche implementate, e proprio per questo è entrato a far parte proprio di diritto nella suite di test che utilizziamo solitamente per le schede video. Questo ovviamente comprende non solo tutte le tecnologie di super sampling che abbiamo visto nella recensione dell'A750, come ad esempio l'FSR, il DLSS e l'XSS, che averle tutte implementate all'interno di un titolo ad oggi non è per niente male, ma anche ovviamente una bella implementazione del ray tracing. Tra i titoli di cui vi parlo in questo video non è sicuramente il più pesante, ma IO Interactive ha fatto davvero un gran lavoro a livello grafico su questo Hitman 3, su questo terzo ed ultimo capitolo della trilogia, proprio per il discorso dell'implementazione delle tecnologie che ci ha sviluppato sopra e che lo rendono ad oggi uno dei titoli più godibili lato grafico, non solo ovviamente anche lato gameplay, anche proprio per tutto quello che è il discorso di miglioramenti tecnologici come super sampling che possano aiutare anche a gestire meglio le prestazioni finali che l'hardware può tirare fuori da questo gioco. E proprio parlando di implementazioni tecnologiche, uno dei titoli che Nvidia soprattutto ha utilizzato di più come bandiera, soprattutto con il lancio del ray tracing e del concetto di RT Core implementato sulle prime schede che potevano gestirlo, quindi le 2000, parliamo di Control. Nonostante sia passato qualche anno, perché parliamo chiaramente di 2018, Control ancora oggi, full dettaglio, full ray tracing, è un vero mattone. e graficamente è estremamente godibile, con un ambiente chiuso comunque, che però ha tante superfici su cui poter giocare con il ray tracing, tanti riflessi quasi eccessivo, lo abbiamo detto anche più volte giocandoci e utilizzandolo come test nel suo applicativo del ray tracing, proprio perché è quasi finto, tante sono le superfici riflettenti e che possono sfruttare a pieno questa tecnologia nel gioco. Ovviamente non si tratta di un open world, siamo quasi sempre in ambienti chiusi, quindi a seconda dello scenario impatta più o meno sul nostro hardware, ma nel suo pieno applicativo rimane comunque, ancora dopo quattro anni e passa, un bel mattone da far girare. Ovviamente, essendo un cavallo di battaglia di NVIDIA da quando è uscito, l'implementazione vale solo per il DLSS, quanto in quanto a tecnologie di miglioramento del framerate. E passiamo a una delle uscite più recenti, di fatto, per il mondo PC. Non è un'uscita recente in quanto gioco in sé, però Marvel's Spider-Man nella sua versione remake per PC è chiaramente uno dei titoli più aggiornati per la nostra piattaforma. E nonostante non sia un lavoro di insomniac, il porting PC Nixis ha fatto comunque una serie di implementazioni all'interno del gioco per renderlo chiaramente un gioco PC e non un gioco PlayStation. Quindi tutte quelle che sono state le limitazioni per la piattaforma console del gioco, quindi tutta quella che è l'implementazione del ray tracing e di tutte le tecnologie che possono migliorare l'immagine in questa versione PC, ovviamente ha ricevuto uno sblocco. Il gioco in sé, lo abbiamo detto anche nella recensione della 4090, non è particolarmente ottimizzato, o meglio, ha avuto qualche problematica, soprattutto relativa magari al CPU bound, quindi non è stato perfetto fin dal giorno del lancio, dal momento del lancio, ma la cosa che più impatta sulle performance ovviamente sono stati tutti i miglioramenti che ci sono stati a livello di implementazione tecnologica sul gioco. Per rendere New York graficamente meravigliosa, e già lo era su PlayStation, anche su PC ancora di più. Abbiamo fatto anche un video a riguardo su Spider-Man quando è uscito, se ricordate ve lo lascio magari quassù nelle schede in cui appunto analizzavamo quelli che sono stati tutti i miglioramenti fatti dalla versione console alla versione PC, soprattutto quello l'applicativo del ray tracing e quanto migliorava quando l'hardware si può spingere oltre. Da filo da torcere anche lato CPU questo Spider-Man, la cosa buona è che con i mesi si sta un pochettino risviluppando, sta ricevendo delle patch di aggiornamento per migliorare un po' la sua situazione e infatti il problema più grande che abbiamo avuto in fase di recensione dell'anno avanti era proprio il fatto che la CPU limitava in qualche modo le prestazioni in alcuni scenari. Cosa buona è che anche qui sono abilitate e sono implementate tecnologie di super sampling varie, quindi non solo di LSS ma anche ad esempio l'FSR. E parlando di Spider-Man, quando spesso magari ci sentite parlare di giochi rotti all'interno delle recensioni o quando facciamo anche solo delle analisi di uscite o di videogiochi particolarmente problematici come è stato magari nei giorni scorsi con Gotham Knights o a Plague Tale che sono stati tanto discussi, spesso e volentieri appunto ci sentite dire giochi rotti, questo gioco è rotto. Rotto vuol dire tantissime cose per noi, in generale però nello specifico solitamente quando intendiamo gioco rotto è o perché l'implementazione, lo sviluppo è davvero tanto carente, lato tecnico, quindi come può essere un Elden Ring che abbiamo criticato tanto proprio per tutti gli artefatti grafici che aveva e anche per la limitazione del framerate che è sempre stata un po' un pallino, tra virgolette, di From Software che abbiamo visto anche con Secure, abbiamo visto anche con altri titoli passati e che abbiamo ritrovato anche su Elden Ring. Oppure per giochi palesemente sviluppati male come può essere un Gotham Knight all'uscita che effettivamente aveva parecchi problemi di framerate e stabilità ma principalmente il tutto si riassume un po' in o sviluppo carente o l'hardware e la potenza che richiede il gioco non equivale poi alla resa finale che il gioco ha. Per questo motivo non vi parlerò di Gotham Knight in questo video. E proprio parlando di giochi rotti, non è vero sto scherzando, Assassin's Creed Valhalla, l'ultimo capitolo della saga più famosa del mondo dei videogiochi, non è vero però una delle più famose sicuramente, è anche un bel mattone nonostante non abbia implementato il ray tracing, nonostante non abbia implementato particolari tecnologie o magari abbellimenti grafici ma risulta comunque ottimo a livello visivo e particolarmente pesante. Qui ci avete spesso sentito dire che Assassin's Creed nello specifico è un titolo molto AMD perché? Semplicemente perché lo sviluppo è stato fatto molto per avvantaggiare l'hardware AMD e lo avete visto più volte in più dimostrazioni soprattutto anche con le ultime recensioni che abbiamo fatto ad esempio della 750 dove con la 6600 che è una scheda mediamente inferiore alle altre due che abbiamo testato andava a cannone Assassin's Creed. Questo è un lavoro che viene fatto da sempre dalle case di sviluppo o comunque da tanti anni per ottimizzare al meglio soprattutto per hardware che magari richiede un certo tipo di tecnologia come può essere un gioco ottimizzato molto di più per Nvidia perché ha un'implementazione di ray tracing molto più profonda e allora in quel caso lì le prestazioni vengono o comunque lo sviluppo viene fatto per favoreggiare di più quel tipo di hardware. Nel caso di Assassin's Creed il gioco è un bel mattone e favorisce molto AMD ma di tanti ultimi AAA usciti o comunque visto che non abbiamo visto grandi uscite negli ultimi due anni a questa parte degli ultimi titoli usciti su questa fascia diciamo è sicuramente uno dei più godibili graficamente parlando. E poi c'è l'immancabile Rockstar. Solo sesto posto semplicemente perché dopo ci sono altre cose molto più mattonose però Red Dead Redemption 2 nonostante sia un gioco che ormai ha qualche anno sulle spalle rimane comunque un cacchio di incudine poggiata sulla scheda video. Non solo sulla scheda video perché alla fine Red Dead impatta molto su tutto l'hardware soprattutto anche sul processore e scheda video perché è un gioco veramente tanto gigantesco non solo ha da gestire un comparto grafico di livello altissimo ma anche tutta una serie di intelligenze artificiali di dover gestire un mondo aperto così grande quindi impatta di fatto anche tanto sul processore ed essendo uno degli open world con la O maiuscola usciti negli ultimi anni è sicuramente uno dei più pesanti ad oggi e che più possono distruggere il nostro pc se tirati al massimo della prestazione grafica del dettaglio grafico. E poi appunto arrivano i mattoni quelli veri cioè la seconda parte della classifica è dedicata solo a bestioni. E parto da un gioco ancora in alpha quindi che ha tutta una serie diciamo di note a margine da fare proprio per questo discorso qui che è Star Citizen. L'MMO spaziale che più spacca i nostri pc attualmente ovviamente come detto è giocabile si può scaricare tramite una procedura che se volete magari vi lascio anche qua sotto in descrizione ma sull'hardware non solo sulla GPU ma tantissimo anche lato CPU è veramente tanto oneroso di risorse. Si tratta di un MMO nello spazio più profondo e che probabilmente manca ancora un po' di ottimizzazione anche il comparto grafico in un certo senso quindi per questo motivo anche su GPU che possono essere considerate tuttora di fascia altissima come una 3090 non riesce poi a spremere così tanti fps fuori anche abbinato a processori di un certo livello. Ed è una pesantezza che mi aspetto di vedere anche all'uscita di Starfield perché giochi di questo livello di questa profondità e ampiezza come è stato appunto per il discorso di Red Dead mi aspetto che rendano la vita difficile non solo alla GPU ma anche a tutto il resto del pc. E giusto perché si parla di vita difficile a Plague Tale non poteva mancare chiaramente. Centro della polemica delle scorse settimane insieme a Gotham Knights questo nuovo diciamo capolavoro di Asobo a livello grafico è qualcosa veramente di spacca mascella cioè degli ultimi titoli implementati è probabilmente uno dei migliori a mani bassissime e implementa ovviamente anche tutta una serie di tecnologie come è stato per la nostra prova in recensione quindi con una versione pre lancio che implementava appunto il DLSS 3 e l'applicativo del ray tracing che verrà introdotto nella versione ufficiale anche a breve. Ad Asobo piace fare le cose così cioè è un gioco pesante graficamente meraviglioso e che però giustamente non è così gestibile da tutti o perlomeno bisogna andare di compromessi ma trattandosi di un'esperienza molto più storytelling che action in un certo senso anche se il framerate dovete scendere a compromessi per arrivare a un livello godibile diciamo console experience o qualcosa di più appunto nonostante magari un framerate non a 100 fps ve lo godete all'astra grande comunque e probabilmente era proprio questa l'intenzione anche degli sviluppatori dare una grafica spacca mascella sfavorendo un po' il framerate. Ora a parte a Plague Tale e tutti i giochi di cui vi ho parlato fino ad adesso una piccola chicca diciamo se volete veramente tastare o comunque mettere sotto sforzo tanto il vostro pc la vostra configurazione. Nella recensione della 4090 abbiamo parlato anche di engine e di demo degli engine per lo sviluppo dei videogiochi che è effettivamente uno stress test a tutti gli effetti non è un vero applicativo e queste possono essere tranquillamente scaricate da chiunque per vedere qualcosa di veramente impattante sul proprio pc come può essere la demo dell'unreal che vi abbiamo mostrato appunto nella recensione con tanto di benchmark che può essere scaricata semplicemente dall'epic scaricando il motore l'unreal e la demo che è tipo valley of ancients valley of ancients una roba del genere ve la lascio qua sotto o anche probabilmente è la cosa più pesante che abbiamo fatto girare sulla 4090 la demo di unity con enemy che veramente gira a tipo una manciata di fps anche su una 3090 e che sulla 4090 con l'applicativo del dlss 3 quindi con la demo che ci ha permesso di provare direttamente in video arrivava se non ricordo male sugli 80 90 fps col dlss 3 quelli possono essere chiaramente una cosa curiosa sono meri benchmark mere stress test per il vostro pc che possono essere diciamo qualcosa di curioso da provare e facilissimi da installare completamente gratuiti e arriviamo alla top 3 assoluta il tier god una delle implementazioni più profonde di ray tracing e quindi di fatto anche uno dei giochi più pesanti nonostante questo abbia sì qualche anno tra l'altro fateci caso come siano quasi tutti i giochi 2018 2019 è chiaramente metro exodus l'enanced edition con l'enanced edition è stato fatto un lavoro davvero magistrale per quello che è l'implementazione della luce e la gestione dei raggi all'interno di un gioco come metro exodus al di là di quello che è il gusto personale per il genere che ad esempio a me prima persona non fanno particolarmente impazzire però devo ammettere che l'applicazione in metro exodus e giocare e vivere il mondo in metro exodus è spacca mascella a dir poco oltretutto non è solo come interagisce la luce con le superfici altro e anche la global illumination è quello che è poi riprodotto a schermo a livello di ombre e di profondità dei neri e delle zone scure che è veramente bellissimo in metro exodus e chiaramente tutto questo si traduce dall'altro lato in vi ammazzo la scheda video qui anche questo cavallo di battaglia per tanto tempo di invidia chiaramente c'è solo il dlss e prima di arrivare alla number one c'è un'altra piccola chicca perché come sapete da tante recensioni a questa parte già dalle 3000 avevamo parlato di questo avevamo fatto vedere come effettivamente cambiassero le cose in questo tipo di giochi minecraft rtx minecraft rtx è stato il primo gioco ad uscire forse insieme a quake che aveva ricevuto anche quello la sua versione pat tracing ad essere appunto sviluppato completamente in pat racing il che ovviamente sulla scheda video sull'hardware in particolare pesa un cifro infatti se ricordate abbiamo utilizzato proprio il benchmark con minecraft rtx per testare la bontà della gestione del rtx da parte delle unità dedicate e non delle due case soprattutto nella recensione delle 3000 e abbiamo riproposto chiaramente anche per queste 4000 minecraft è minecraft però tutto il mondo con l'illuminazione tramite gestione dei raggi in tempo reale con il ray tracing ovviamente cambia da così a così e vale lo stesso discorso per portal che purtroppo non abbiamo ancora sotto mano per provare non abbiamo ancora una data di uscita a dire il vero perché dovrebbe uscire entro il mese però non sappiamo ancora bene quando ma dovrebbe avere la stessa logica e lo abbiamo visto anche dai trailer da quel poco che c'è stato mostrato da invidia durante la campagna pubblicitaria e qui il discorso è diverso da quello fatto per gli engine perché non sono meri showcase questi sono proprio giochi che voi giocate con questa logica di pat racing tant'è che il pat racing è talmente impattante sulle prestazioni che è applicato a giochi che solitamente sono abbastanza semplici da far gestire al proprio hardware come appunto minecraft portal o quake e che sarà sicuramente il futuro in un certo senso delle applicazioni di questo tipo all'interno dei videogiochi voi pensate un pat racing applicato a un god of war per dire o a qualsiasi altro titolo tripla è ovvio che si va sempre di più alla ricerca del fotorealismo più spinto e non dell'8k basta 8k e poi c'è lui che come al solito per quando si parla di cd project è partito di merda perché è partito ovviamente male con tutta la shit storm che ha avuto dietro e pian piano man mano che passano i mesi arrivano le patch si aggiunge roba su roba su roba e cyberpunk oggi è veramente uno dei giochi più meravigliosi a livello grafico a cui potreste giocare con un hardware di un certo livello se c'è però un applicativo che avete una scheda video top di gamma e volete spingerla al suo massimo cyberpunk è sicuramente il numero uno oltretutto invidia ha lavorato tanto a stretto contatto con i ragazzi di cd project non solo per implementare all'interno del gioco tutte le sue tecnologie al meglio dal retracing nella sua versione più spinta al dlss anche qui lo vedremo nella versione 3 su cyberpunk tra i primi titoli che usciranno ma dovrà uscire anche una versione overdrive che implementa una tecnologia ancora più approfondita di retracing ovvero l'rtx di o direct illumination che un po come per il discorso fatto per metro exodus e nancy edition migliora ulteriormente rende ancora più realistiche le fonti di illuminazione il modo in cui si proiettano le luci e le ombre degli oggetti chiaramente però a night city e non magari in zone post apocalittiche come nel caso di metro il discorso cyberpunk e quanto è figo a livello proprio di resa finale e tutti gli altri giochi di cui abbiamo parlato soprattutto quelli diciamo più personalizzati che hanno ricevuto più aggiornamenti in un certo senso è anche un po da fare sui motori grafici quello che vi ho fatto vedere con le demo con la real e con gli unity si perderà un pochettino infatti un po il peccato della ascesa della real engine e del fatto che tante case di sviluppo compresa city project stiano vertendo verso l'utilizzo della real engine andrà a far sparire un po di più sempre i motori proprietari come red engine che è stato in grado di sviluppare cose meravigliose o altri engine che saranno sempre più messi da parte in favore di un engine più diciamo semplice e malleabile in un certo senso come può essere l'unreal che per quanto ottimo probabilmente non raggiungerà mai i picchi a cui sono in grado di arrivare le varie case di sviluppo come è stato a zobu con a plug tail o con flight simulator per dire o red engine per quanto riguarda city project e questo un po ci dispiace questo ovviamente non è un discorso da fare per tutti perché non è automatico che tutti cominceranno a sviluppare solo sulla real è ovviamente un ragionamento dato dal fatto che city project in primis ha parlato proprio di adottare per lo sviluppo del prossimo the witcher proprio la real e non più un suo motore proprietario quindi diciamo che può essere una tendenza anche da parte di altre software house magari anche più grandi a fare un discorso di questo tipo come menzioni onorevoli in realtà ci sono tanti giochi che potrei citarvi tanti tripla però ovviamente conoscete benissimo anche voi il panorama dei triple a quindi non serve che sto qui a farvi l'elenco di tutti i migliori titoli infatti se vedete all'interno della lista ci sono tante anche cose curiose non solo triple a semplicemente pesantissimi e che grazie al cazzo che sono pesanti per il nostro pc quello che posso ipotizzare possiamo ipotizzare è più sul futuro come uno starfield che magari non sarà ottimizzato meraviglioso a livello grafico come bethesda ci insegna ma sarà sicuramente molto oneroso per il pc o ad esempio una versione rtx per the witcher 3 che ancora oggi viene utilizzato come benchmark per tante recensioni e che di fatto è ancora bello pesante immaginate una versione completamente rifatta con a bordo una tecnologia come ray tracing non solo quanto può pesare sul pc ma quanto può essere fottissimamente bella anche piccolo discorso si può fare anche per il vr per la realtà virtuale quelli che sono gli applicativi migliori come può essere un alix del caso che a parer mio ad oggi è ancora l'applicativo migliore per la vr il problema della vr è che al momento si sta tentando e da tanti anni a questa parte si sta tentando più di renderla accessibile piuttosto che appesantire ancora di più i contenuti non che questi siano leggerissimi perché anche alix comunque ha bisogno di un certo livello di hardware però il punto è che come abbiamo detto tante volte anche parlando proprio di alix e consigliando più volte di giocarlo a chiunque abbia la possibilità di dotarsi di un visore è ovviamente l'obiettivo degli sviluppatori anche andare incontro all'utenza di modo da far acquistare visori magari più economici e che possano comunque gestire con hardware anche non per forza top di gamma giochi di questo livello e alix è veramente di alto livello quindi ragazzi fateci sapere che cosa ne pensate che cosa avete provato cosa usate per mettere sotto torchio il vostro hardware il più possibile e se avete qualche cosa in più da aggiungere a questa lista fatelo chiaramente qua sotto nei commenti io vi ricordo come tutti gli ultimi video che è novembre e tra qualche settimana avrà luogo il black friday quindi non dimenticate di seguirci anche su tutti gli altri social che trovate qui sotto in descrizione soprattutto i canali di offerta che ovviamente non perderanno neanche un'offerta dedicata al nostro ambito e non solo e noi ci vediamo come al solito alla prossima ciao